Una buona partecipazione per la tradizionale sagra paesana organizzata dalla musica di oira e dalla corale parrocchiale. Tra sapori e cultura nel caratteristico borgo di pietra si festeggia la Madonna del Rosario con la fiaccolata di sabato sera e messa solenne della domenica mattina. News 24, la tua nuova tv locale.